Una merenda con imprevisto Oh che fame che mi è venuta! Già si sente un profumino da qui! Oh mamma quando è pronta la merenda? Io ho una fame! Già pure io! Bambine dovete avere pazienza, i vostri amici saranno qui tra mezz'oretta. I biscotti e la torta sono in forno. No uffa qui c'è un profumino però sarà difficile resistere. Ehi blu io non resisto più! Ho una fame! Già ora basta scendiamo giù in cucina. Devo per forza mangiare qualcosa. Mamma mamma noi abbiamo fame! Dovete aspettare ancora un po'. Oh no basta! Facciamo così finché aspettate i vostri amici cominciate ad apparecchiare la tavola. Ok. Qui dentro se non sveglio dovrebbero esserci le tazze da te. Eccoli qui infatti. Quindi. Oh bene, la torta e i biscotti dovrebbero essere pronti. Et voilà! Cos'è questo profumino? Bene, vado a fargli una doccia veloce e poi arrivo. Non resisto. Lui non possiamo mangiarla, altrimenti i nostri amici rimarranno senza merenda. Già, beh... Non mangeremo la torta. Solo qualche fragola. Ok! Gnam gnam. Poco dopo. Ops, lui, altro che qualche fragola. Ne abbiamo mangiate tutte. Oh no, la mamma! E la torta? L'abbiamo coperta con un panno, così rimarrà bella calda per i nostri amici. Sì, sì! Oh, ma è una bella idea. Brava, bimbe. Mi sa che sono arrivati i vostri amici. Ciao! Ciao ragazzi, benvenuti. Forza, accomodatevi che la merenda è pronta. Oh sì, ho una fame! Ecco qui il tè per voi. Wow! Grazie mamma! E... Beh, una torta di fragole senza fragole. Ma... Scusate ragazze. Oh sì, ho una torta di fragole senza 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 fra